Dove e come applicare l'illuminante? Vi svelo i 5 punti strategici per rendere il vostro viso davvero luminoso. Le zone di cui vi parlo sono 5. L'arcata sopraccigliare, il dorso del naso, l'arco di cupido, il labbro inferiore e gli zigomi alti. Io utilizzo un illuminante in polvere e vi mostro adesso come metterlo sull'arcata sopraccigliare. In questo modo ho aperto ed illuminato il mio sguardo, adesso andrò a metterlo sull'arco di cupido e sul labbro inferiore. Per queste due zone utilizzerò un correttore a penna illuminante, andiamo a creare un punto luce incredibile ma soprattutto andremo a dare volume alle nostre labbra. Poi vado a picchiettare. L'effetto finale è incredibile, ovviamente poi andremo a mettere la matita ed il rossetto. Applichiamo adesso l'illuminante sugli zigomi alti e lo applichiamo proprio qui. Regaliamo anche al nostro naso un tocco di luce. Adesso completiamo il nostro make-up con un rossetto ed andiamo a far brillare gli occhi a tutti. Grazie. 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 Grazie.